Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare del rapporto tra diritto e intelligenza artificiale e ci concentriamo ora su quali sono le implicazioni dell'intelligenza artificiale in sede giudiziale penale ma anche in che modo oggi è regolamentato il mondo dell'intelligenza artificiale sia a livello europeo sia per quanto riguarda il nostro paese. Lo facciamo con i nostri ospiti che presento e che sono l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, di nuovo con noi. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei, grazie. E l'avvocato Massimiliano Nicotra, socio di Qbit Law Firm. Buonasera, benvenuti. Salve. Buonasera, salve, buonasera. Buonasera, ecco. Parto da lei, avvocato Padovani, e le chiedo quali sono le implicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella sede giudiziale penale. Prego. Dunque, in sede giudiziale, quindi considerando quella fase post-factum, quindi dopo che è stato commesso il delitto, l'uso dell'intelligenza artificiale attraverso indici, algoritmi predittivi, promettono un'accuratezza maggiore rispetto alla valutazione della pericolosità sociale e dalla capacità di recidive. Quindi si tratta sostanzialmente di algoritmi che utilizzano una serie di fattori che vanno dalla neighborhood crimes, alla background socio-familiare, addirittura all'employment status e anche alla propria vita digitale, in alcuni casi vediamo criticamente anche alla razza, relativi al passato e individuano delle ricorrenze di cosiddetti partner caratterizzate da una base statistica. Base statistica che viene considerata molto più solida di quella alla base dei giudizi umani. Quindi si tratta di strumenti che aiutano le valutazioni predittive, che possono essere utilizzate, ad esempio mutuandolo nel sistema giudiziario italiano, su una valutazione e sul rischio di recidive in sede cautelare, sui per i fini di una misura di sicurezza o addirittura di prevenzione, in punto anche di commisurazione della pena, di applicazione della sospensione condizionale o ancora in sede di misure alternative, quando si tratta di decidere su una misura alternativa alla detenzione, quindi sia in fase cautelare che in fase esecutiva. Quali sono i possibili benefici? Beh, traendo le somme si pensa ad una riduzione di errori giudiziari determinati da bias che contaminano, ad esempio, questo è molto interessante, la valutazione della prova, specie quella dichiarativa, e quindi ad esempio la valutazione della contraddittorietà del testimone, della sua tendibilità, sia intrinseca che rispetto al compendio probatore, quindi cosiddetto estrinseca, potrebbe anche consentire, come evidenziato da qualche collega processualista, potrebbe anche consentire di aiutare il giudice dell'udienza preliminare nel fare quella prognosi sul positivo sviluppo dibattimentale, sulla base della quale, come è noto, il giudice dell'udienza preliminare decide per un arresto del procedimento già in quella fase, oppure per un rinvio a giudizio. Potrebbe anche mitigare la cosiddetta, sempre per utilizzare un termine d'oltreoceano, sentencing disparity, applicando cioè pene commisurante ad indici di gravità calcolato oggettivamente. Ora, molto velocemente, lo scenario è già stato anticipato largamente negli Stati Uniti, e si impensi ad una sentenza che ha fatto molto clamore, perché ha avuto una certa eco sugli organi di stampa della Suprema Corte del Wisconsin, che è intervenuta su una decisione del Tribunale, nella quale i giudici avevano valutato proprio questa proiezione sulla recidiva attraverso il programma Compass, anche per determinare la pena, dando peraltro una pena nel caso concreto particolarmente elevata. Qual è il tema? Il tema è che si tratta comunque di strumenti, Compass è uno dei tanti, ma di strumenti che non offrono la spiegazione di quel rischio che è individuato in rapporto al dato statistico. E quindi si crea un'interruzione del potere di controllo sulla motivazione, che è fondamentale per il giusto processo. In altre decisioni statunitensi si sono applicati programmi analoghi, pensa ad esempio al distretto della Colombia con il sistema Savri, o addirittura già nel 2018, oppure allo Stato del New Jersey, che addirittura ha sostituito le udienze dedicate alla concessione della libertà su cauzione, con delle valutazioni dei rischi e assessment ottenute attraverso algoritmi. Quindi una sorta di valutazione, diciamo così, psichiatrica sulla base di algoritmi? No, non è psichiatrica, è predittiva, nel senso che sulla base di fattori del passato del soggetto, quindi big data che attengono a dove il soggetto abita, i suoi eventuali precedenti penali, ma anche ad esempio il contesto di criminalità di cui è circondato, le sue abitudini di vita sociale, addirittura le sue abitudini di vita del web, l'appartenenza ad una determinata razza, questo comporta la rielaborazione su base statistica di una probabilità. È proprio quella sorta di risk assessment che noi vediamo nella mappatura del rischio aziendale in fine 2-3-1. È molto simile, ovviamente sono dei software molto sofisticati. Il vero punto qual è? È l'opacità, cioè l'opacità di come questo rischio sia considerato tale, e quindi c'è un'interruzione di quello che è il rapporto naturale della parità delle armi del giusto processo. Tanto che, ma su questo probabilmente il collega può approfondire meglio, non voglio lasciargli spazio, tant'è che è proprio la carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia ad aver insistito, tra le altre cose, proprio sul principio della trasparenza, della verificabilità. Buona sostanza, quello che si teme è quello di, come dire, per ottenere, per inseguire l'utopia di una giustizia esatta, di perdere una giustizia verificabile, lontana peraltro dal prisma dell'abeas corpus, perché appunto stiamo andando ad un'idea dell'abeas data, e quindi di un processo che vede sempre più distaccato il giudice dall'imputato, ma anche dalla giustizia. Quindi è il problema di verificabilità del percorso motivazionale del giudice, non dell'intelligenza artificiale in quanto tale, ovviamente che può essere essenzialmente utile. Ecco, appunto c'è anche un problema di regolamentazione. Mi rivolgo a lei, Avvocato Nicotra, e le chiedo di fare un po' il punto appunto su come è regolamentata, e normata all'intelligenza artificiale a livello europeo, ma anche italiano. Sì, grazie. Grazie anche dell'intervento della collega, che è stata molto puntuale, proprio anche nell'esporre quali sono gli attuali problemi e quelli che si stanno affrontando. Da un punto di vista europeo, noi stiamo passando dall'etica al diritto, forse finalmente, nel senso che tutto è partito da un report del 2017 del Parlamento europeo. Si parlava allora solamente di responsabilità dei robot, in cui vi erano alcuni interventi dei sistemi di intelligenza artificiale. Poi, come giustamente ha ricordato, è stato costituito un gruppo di alti esperti, soprattutto ai fini dell'individuazione dei profili etici, tra cui hanno dato luogo a una carta dei profili etici, diciamo così, dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in cui molti dei principi, appunto, che erano indicati dalla collega, sono contenuti all'interno della carta. Addirittura l'analisi del rischio, cioè il risk assessment sull'utilizzo del sistema, piuttosto che la trasparenza, l'eliminazione dei bias, l'accountability di coloro che utilizzano il sistema. Da questo ci sono tantissimi interventi. Il Consiglio di Europa è intervenuto anche lui con un paper su delle linee guida anche per l'utilizzo dei sistemi e anche c'è un altro paper per la tutela dei diritti fondamentali. Vi ricordo che noi in Italia abbiamo avuto la strategia MISE, pubblicata in forma definitiva lo scorso luglio, che è una strategia che ha delle indicazioni sia operative, sia anche giuridiche. Ad esempio, nella nostra strategia per favorire la diffusione e l'utilizzo di questi sistemi, sono previsti strumenti quali data sharing agreement. Sappiamo tutti che i sistemi di machine learning, piuttosto che di deep learning, devono utilizzare quantità di dati per poter arrivare poi a essere istruiti, a essere allenati, addestrati per arrivare poi a prendere quelle decisioni o a riconoscere in maniera corretta determinati input. Da questo è notizia recente, se non sbaglio di massimo dieci giorni fa, il Parlamento europeo ha adottato tre risoluzioni indicando alla Commissione europea di fare delle proposte, la prima proprio per tradurre quei principi etici che erano stati individuati a livello di gruppo di lavoro in termini critici, la seconda e la terza, la seconda riguarda il regime della responsabilità civile, vi ricordo che a livello europeo è stata prevista che l'allocazione del rischio avvenga tramite meccanismi di assicurazione obbligatoria per gli utilizzatori di questi sistemi, e infine la terza riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per coloro che, o meglio, che utilizzano questi sistemi per creare opere soggette al diritto autore. Un'altra cosa, giusto per, in realtà anche noi abbiamo internamente qualche sprazzo di normativa, ad esempio se andiamo a prendere, a circolare sull'adeguata verifica della clientela, parlo in materia di antiriciclaggio, prevede che l'analisi del rischio sia anche effettuata da parte delle banche e da coloro che devono applicare la normativa attraverso degli algoritmi. E quindi anche qui c'è un'apertura anche a sistemi in futuro di intelligenza artificiale che andranno a pesare, proprio quello che diceva la collega, anche il passato non solo, su un profilo di rischio di commissioni di reato antiriciclaggio. Ad esempio, anche per fare un altro esempio, il codice di deontologia sulle centrali rischi private, il nuovo codice prevede che lo scoring possa essere effettuato anche attraverso l'utilizzo di algoritmi, anche in questo caso pesi di soggetti per arrivare a delle decisioni. Abbiamo degli esempi nella decretazione d'urgenza che c'è stata questa primavera, è stato previsto anche l'utilizzo da parte del Ministero della Salute di dati incrociati per arrivare a definire quale debba essere l'approvvigionamento farmaceutico. Poi abbiamo la norma principale, diciamo così ad oggi, che è quella dell'articolo 22 del GDPR, del Regolamento Europeo, che disciplina proprio come devono essere e quali sono i presupposti per l'adozione di decisioni automatizzate e quindi questo a livello di protezione di dati personali, ma anche di diritti dell'interessato stesso. Certo, quindi insomma l'intelligenza artificiale è ormai parte integrante di noi. Avvocato Padovani, restando appunto, tornando all'ambito dibattimentale del processo penale, come è regolamentata la cosiddetta prova informatica? Nel senso che possono essere utilizzate oggi anche dei semplici emoticon come prova? Sì, decisamente. La prova informatica trova sparuti articoli del codice diritto ad essa dedicati. Sono due fondamentalmente. Quella che prevede l'utilizzazione e l'acquisizione di dati informatici acquisiti anche all'estero e l'altra che attiene invece proprio al mezzo di ricerca della prova, cioè l'ispezione informatica. Diciamo che la disciplina sostanziale, scusate il besticcio di parole tra processuale e sostanziale, ma i principi sostanziali di utilizzazione della prova informatica attengono e discendono direttamente dalla Convenzione di Budapest del 2008, che è una convenzione straordinariamente importante per l'acquisizione, l'utilizzo e anche la valutazione in sede giudiziale e penale della prova informatica. La Convenzione di Budapest, vado molto velocemente, che cosa pretende in buona sostanza, che cosa impone agli stati membri che la autuano? Impone che sia garantita l'originalità del dato grezzo, la non manipolazione del dato grezzo e quindi che ci sia la prova di una perfetta catena di custodia dal momento in cui l'autorità investigativa di polizia o su ordine della magistratura acquisisce il dato informatico al momento in cui ne blocca fotograficamente il suo contenuto, al momento in cui lo trasmette, lo custode e poi lo duplica per l'utilizzo del processo penale. Devo dire che a livello giurisprudenziale purtroppo l'Italia non si attesta tra le pronunce più lucide e rigorose in tema di prova informatica. Spesso la prova informatica si confonde con la prova documentale e quindi ad esempio il dato contenuto in una mail o in un messaggio telematico viene stampato. Sappiamo ovviamente che il processo penale non è un processo digitale, è un processo orale basato su documenti, ma è orale, non è digitale e quindi spesso il contenuto informatico del documento cristallizzato nel documento fa bypassare una serie di interrogativi processuali di contraddittorio su come è stato acquisito e su come è stato custodito. Ovviamente c'è poi tutto il problema interpretativo che si sta ponendo oggi e che è dal 2014 ci sono i primi casi negli Stati Uniti di interpretazione degli emoji e dell'emoticon, quindi di quel segno digitale, di quel segno informatico che viene addirittura utilizzato in alcune corti è stato fatto così, in alcune corti statunitensi per comprendere ad esempio lo stato mentale che aveva il supposto autore del reato, l'indagato e l'imputato nella sua relazione con la vittima, questa ad esempio in alcuni reati ovviamente contro la persona. Ecco, qui si aprirebbe un mondo ovviamente anche di adeguamento dell'interpretazione del segno digitale rispetto ai crismi della prova logica e quindi ai rigorosi criteri di logica nell'appuntazione della prova anche di quella informatica. Certo, assolutamente. Molto interessante Avvocato Nicotra, io torno da lei e le chiedo quali sono le altre implicazioni dell'intelligenza artificiale applicata al diritto come può essere quella in ambito appunto di uso lavoristico. Prego. Sì, in realtà abbiamo svariate applicazioni perché come tutte le tecnologie è abbastanza trasversale. Noi ad oggi come dicevo prima abbiamo un articolo cardine che è l'articolo 22 del GDPR. Quello che sta accadendo però è un ravvicinamento e questo è molto molto curioso anche da notare è un ravvicinamento tra le discipline. le faccio un esempio proprio in ambito gius lavoristico si stanno spesso utilizzando anche a livello di selezione dei candidati piuttosto che per andare a decidere delle progressioni di carriera dei dipendenti e queste tipologie di attività. Mi è stata una sentenza molto interessante molto importante almeno per quello che mi riguarda che non è proprio intelligenza artificiale ma diciamo sono decisioni automatizzate quindi rientrano in piano grado in quello che sarà poi nel futuro alla fine l'intelligenza artificiale è solo un pezzettino che si aggiunge il Consiglio di Stato lo scorso anno con la settezza 2270 del 2019 ha creato una sorta di carta dell'intelligenza artificiale applicata ai procedimenti amministrativi. Quello che si sta vedendo se noi andiamo a leggere questa carta scusatemi il termine a tecnico ma in realtà indica dei principi che li andiamo a vedere con la carta etica ma non solo con anche quello che è previsto nell'articolo 22 sono speculari a quelli stabiliti ad esempio nel GDPR sulla trasparenza sull'obbligo o meglio sul diritto che ha l'interessato a essere sottoposta a quella decisione automatizzata al vaglio di una persona umana eccetera e questo lo fa partendo dalla 241 del 1990 che è quella che disciplina in realtà il procedimento amministrativo applicando quei principi che si applicano appunto nella pubblica amministrazione trasparenza obbligo di motivazione delle decisioni possibilità di intervento del cittadino nel procedimento arriva a a a formalizzare gli stessi principi che noi andiamo a vedere nella carta etica piuttosto che nell'articolo 23 stesso quindi il tema è sempre di come dire di avvicinamento dei principi di fronte a queste tecnologie e si stanno creando dei principi più generali che tutti dobbiamo seguire nel momento in cui le utilizziamo che sono quelli che poi volendo li possiamo far ritornare anche a principi costituzionali piuttosto che a libertà fondamentali questo è tutto molto interessante anche nell'attività concreta di ogni giorno le applicazioni oltre a quelle del gius lavoristiche immaginate il marketing oggi marketing automatizzato sulla profilazione degli utenti online è qualcosa che viene strautilizzato immaginiamo il tema della sorveglianza di massa tramite il riconoscimento facciale l'European la protection board nell'ultima linea guida sulla videosorveglianza anche se parla di videosorveglianza poi mette il puntino su lei anche sulla sorveglianza massiva vi ricordo che negli Stati Uniti alcuni stati hanno operato totalmente e alcune big Google piuttosto che Microsoft hanno detto che non mettono a disposizione i software finché non vi sarà una regolamentazione per i rischi sulle libertà fondamentali dei soggetti quindi quello che si sta notando è come dire i principi generali ritornano a essere un faro nel nostro agire anche con queste nuove tecnologie e partendo da là si riesce poi a a a fare quegli assessment di cui parlavamo prima e a cercare di camminare un po' i rischi che queste tecnologie comportano per tutte le persone certo insomma è un mondo un settore in rapidissima evoluzione sarebbe anche interessante creare proprio un appuntamento fisso anche con voi per rivedere quanto è stato detto e l'evoluzione a distanza di così poco tempo bene io vi ringrazio intanto per essere stati con noi e per l'interessante contributo l'avvocato Chiara Padovani fondatrice dello studio legale Padovani grazie grazie a voi grazie a voi e buonasera e buonasera e l'avvocato Massimiliano Nicotra socio di Cubit Law Firm grazie anche a lei grazie grazie buona serata grazie grazie anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata di doppio binario